Allora, uno dei capitoli più interessanti, più affascinanti dell'opera di Leonardo a Milano è sicuramente la realizzazione del Cenacolo, che viene appunto dipinto sulla parete di fondo del refettorio di Santa Maria delle Grazie, che come abbiamo visto parlando di Bramante era considerato da Ludovico il Moro una sorta di mausoleo della famiglia, dell'Isforza, con questo tentativo di ingentirire e celebrare le grandezze dell'Isforza. Abbiamo visto come Bramante interviene realizzando la parte terminale, innestando un edificio a corpo centrale nell'edificio invece longitudinale realizzato precedentemente da Guineforte Solari. Leonardo sarà chiamato a realizzare questa scena di ultima cena, appunto nel refettorio, il luogo dove i frati mangiavano, nella parete di fondo che si trova proprio a contatto con le cuscine e quindi con l'umidità delle cuscine, un elemento che sicuramente non giova per la conservazione dell'opera. Ma non è questo il punto che porta questo dipinto ad uno stato di conservazione così precario. Vedete nell'immagine che si tratta di un dipinto assolutamente corrotto, assolutamente rovinato, nonostante un restauro più che ventennale che è riuscito comunque a riportare in superficie una quantità inimmaginabile di dettagli, di particolari. Ma ovviamente si è persa la brillantezza del totale, una serie infinita di dettagli, complessivamente non si riesce ad immaginare perfettamente come si presentava all'opera nel suo massimo splendore, il che sicuramente ha alimentato il fascino di quest'opera, senza stare a citare Dan Brown e elementi di questo genere. Come mai l'opera è così rovinata? L'opera è così rovinata perché come abbiamo già visto e come abbiamo già detto, Leonardo ha un fastidio personale quasi, ha dei problemi personali potremmo dire con la tecnica dell'affresco. La tecnica dell'affresco è per definizione una tecnica rapida, che richiede velocità di esecuzione e l'impossibilità di ritornare sui dettagli, sui particolari, perché è proprio la sintesi, la caratteristica tipica dell'affresco. Casomai si può ritornare a secco, quindi dopo che l'intonaco è già asciutto, si può tornare a chiarire alcuni dettagli. Ma questo è contrario, assolutamente contrario, al modo di lavorare di Leonardo. Uno dei contemporanei di Leonardo milanesi che lo vede operare è Matteo Bandello, celeberrimo novegliere milanese, che ne parla, che ci dice appunto, ci racconta quello che faceva Leonardo. Leonardo magari era capace di lavorare con questa incostanza, con questa volontà di fare e di sfare continuamente tutto, era capace di lavorare ore e ore di seguito senza ricordarsi di fermarsi, di riposarsi, di mangiare, e poi magari poteva stare anche giornate intere in cui stava due ore in contemplazione dell'opera senza metterci il pennello. Elementi che non si prestano in nessun caso alla tecnica dell'affresco. E quindi cosa fanno? Nonostante io vi abbia scritto tempera su parete, si tratta di una tempera, ma si tratta di una tempera grassa su una parete trattata con una imprimitura a gesso, come se la parete fosse un'enorme tavola. Quindi Leonardo cerca di realizzare un dipinto su parete che si avvicini il più possibile, da un punto di vista tecnico, alla pittura d'olio. Tanto che la scelta della tempera grassa, la tempera grassa ricordate è una sorta di mescolanza di una tempera fatta con un collante, diciamo così, animale, quindi il chiaro e il rosso d'uovo, ma con l'aggiunta di oli vegetali, come si faceva nella pittura d'olio, per ritardare appunto la tendenza ad essiccarsi, ad asciugarsi del dipinto e per soprattutto arricchire di brillantezza le tonalità del colore. Questo è l'intervento che fa Leonardo, intervento assolutamente fallace perché il gesso non riesce ad aggrapparsi perfettamente alla parete umida, abbiamo detto che c'erano le cuscine dall'altra parte, e il colore a sua volta non riesce ad aggrappare, rimane una pellicola staccata rispetto al gesso e quindi comincia a rovinarsi già nei primi anni dopo l'esecuzione. Addirittura mentre Leonardo sta ancora realizzando l'opera si rende conto che c'è la necessità di intervenire, di restaurare, e questo è abbastanza impressionante. Questa indefinitezza probabilmente ha arricchito di fascino l'opera, così come l'arricchita di fascino una serie di contingenze, di situazioni che gli sono accadute, prima fra tutte il bombardamento del 1243, dove il refettorio venne praticamente raso al suolo e miracolosamente rimase in piedi soltanto la parete, come vedete coperta da questi sacchi di sabbia dove si trovava il cenaco. Tutti elementi esterni che contribuiscono alla fama, diciamo così, dell'opera. Se andiamo a guardare il dettaglio, ci rendiamo conto che si tratta di un'opera che fonda la propria grandezza, intanto nella regolarità, che è tipicamente rinascimentale. Vedete che abbiamo una fuga prospettica che consiste in una sorta di tromplei, lo sfondamento della parete di fondo del refettorio, fuga prospettica che vede il punto di fuga proprio nel volto di Cristo, ma che, se andiamo ad analizzarlo con precisione, è leggermente corretta, cioè sia il piano, diciamo così, del pavimento, sia quello del soffitto, sono leggermente ribaltati proprio per aumentare la sensazione di vicinanza degli spettatori che sono efrati rispetto al dipinto. E questo ci rimostra una volta di più la capacità di Leonardo di superare le regole per superare quella che Vasari definirà una secchezza, una durezza, una legnosità quasi delle figure del primo rinascimento. Quindi Leonardo sa derogare dalle regole. Ma al di là di questo e della complessità, diciamo così, prospettica di questa figura, con Cristo al centro, con queste tre finestre, una porta e due finestre che si aprono sullo sfondo ad inquadrare la figura centrale e le figure laterali divise in gruppi di tre, quello che colpisce è la semplicità di questa scena, dove si rappresentano tantissimi dettagli, tantissimi particolari, con un gusto fiammingo, ma di una povertà impressionante, una tovaglia di fiandra che conosciamo ancora oggi per questi recami, così semplici bagliori sul vetro delle coppe, sul metallo, sul peltro delle stoviglie. Quindi una serie infinita di dettagli. Quello che però si vuole rappresentare fondamentalmente sono emoti dell'anima. La scena che si rappresenta è quella che Matteo descrive, no? Quando dice, riporta le parole di Cristo, in verità vi dico, uno di voi mi tradirà. E qual è la reazione degli apostoli? È una reazione sconcertata, qualcuno si tira indietro, qualcuno rimane stupito, qualcuno si arrabbia, tutti gesticolano e parlano fra loro e aprono la bocca e cercano di... si indicano, si toccano, no? Quindi si vedono proprio l'espressività fortissima, il pathos di queste figure, no? Che in qualche modo si chiamano fuori, alzano le mani, inorridiscono. E tutto questo in figure divise appunto in gruppi di tre, il che riesce a compensare e equilibrare la scena. Nell'iconografia tradizionale del Cenacolo, i gruppi, diciamo, non erano divisi in gruppi, gli apostoli non erano divisi in gruppi di tre perché normalmente Giuda veniva, era l'unico e veniva rappresentato di fronte dall'altra parte della tavola per isolare proprio la sua figura. In questo caso molto più finemente, Leonardo utilizza l'iconografia tipica, vedete questo è Giuda che ha questo volto più scuro e questo volto grifagno con questo naso aquilino che è tipico dell'iconografia di questo personaggio negativo, ma questo personaggio si isola da solo. È l'unico personaggio che non ha una gestualità forte che lo mette in contatto con i suoi compagni e non apre la bocca, non parla. È come se si ritraesse perché si rende conto appunto che è lui il personaggio, è lui che si sente in colpa. Ecco, anche in questo caso Leonardo dimostra la sua capacità di rivedere le iconografie e di svilupparle per dare un senso di realtà delle figure vere, delle figure che hanno la loro verità soprattutto nel movimento, nella gestualità, nella rappresentazione delle mani, dei gesti, dei volti, che sono le caratteristiche tipiche di Leonardo. Cosa interessante in questo caso è anche il collegamento fra tutte le figure come se fosse un moto centrifugo. La parola di Cristo, in verità vi dico, uno di voi mi tradirà, che provoca un'onda. Centrifugo è queste figure che si scansano dal centro ma che rimangono collegate una all'altra proprio da questa gestualità, dagli sguardi, dal toccarsi fra loro. Questa tendenza alla vorticosità delle figure si ritroverà in una delle opere capitali della quale ci rimane soltanto questa copia della scena centrale di Peter Paul Rubens realizzata a Firenze da Leonardo, la battaglia di Anghiari, dove il gonfaloniere Pierzodarini aveva messo a confronto, voleva mettere a confronto i due grandi artisti dell'epoca, il maturo Leonardo e l'astro nascente Michelangelo. Uno avrebbe realizzato la battaglia di Anghiari, l'altro la battaglia di Cascena, vedremo in maniera diametralmente opposta l'uno dall'altro, confrontandosi. Nessuno dei due dipinti è rimasto, Michelangelo si è fermato al cartone, Leonardo ha cominciato a dipingere, ma con una tecnica che tentava di recuperare l'encausto, un'antichissima tecnica romana che in questo caso addirittura non solo ha provocato una pittura rovinosa, ma addirittura proprio la perdita completa di questo dipinto. Ci rimane però appunto questo cartone, questo disegno realizzato da Rubens, ci rimane anche una parte dipinta del Poppi e quindi sappiamo che effettivamente il cartone di Rubens è abbastanza, il disegno di Rubens è abbastanza veritiero, l'immagine dell'uomo che urla a destra è un disegno originale di Leonardo. Cosa notiamo noi in questa immagine? Al di là di tutto quello, adesso potremmo dire, potremmo fare una lezione intera su quest'opera. Vediamo proprio questa vortifosità incredibile, per cui non esiste una figura in primo piano e una in secondo piano. È come un'esplosione, un vortice che circonda, diciamo così, le figure sono come arrotolate, abitate su se stessi, in un tentativo di vitalità estrema che è una delle ricerche tipiche di Leonardo e che per esempio ritroveremo nel cartone, nel disegno per la Vergine e il bambino con Sant'Anna, realizzato nel 1501-1508 a Firenze, che poi trova una sua esecuzione nella tela che oggi si trova, scusate, nella tavola che oggi si trova al Louvre, perché fa parte di quel gruppo di tavole, di fiere, di opere che Leonardo porta con sé in Francia e che rimarranno appunto in Francia, donate da Leonardo al Salai e poi passate al re di Francia. Vediamo la ricerca di una vitalità in questa composizione piramidale, in questa composizione che comunque è una piramide spiraliforme, perché la Madonna è seduta sulle ginocchia di Sant'Anna che la guarda e il bambino che gioca da una parte con San Giovannino dall'altra nella versione finale San Giovannino è diventato un agnello, c'è Agnus Dei, i catamundi, quindi diciamo che è la frase che sta di solito nel ricciolo di carta del bastione di San Giovannino. Troviamo proprio questa volontà di creare vitalità, tra l'altro notiamo nel passaggio dal disegno preparatorio all'opera che rappresenta la stessa iconografia un completamento, una compattezza diversa, la figura è perfettamente piramidale, quindi molto più equilibrata rispetto al disegno e c'è una linea che congiunge gli sguardi dell'agnello, del bambino, della vergine e della Sant'Anna, vergine e Sant'Anna che hanno gli stessi lineamenti e hanno gli stessi lineamenti proprio a sottolineare diciamo potremmo dire la linea, la discendenza della Madonna da Sant'Anna e di Cristo dalla Madonna perché la Madonna è appunto il tramite attraverso il quale Dio si incarna e quindi si fa uomo tra gli uomini. Quello che stupisce appunto in questo caso è proprio la grande vitalità. Abbiamo detto una composizione piramidale quindi composta tipicamente rinascimentale ma priva completamente di quelle secchezze, di quelle rigidità dovute a una prospettiva, a un'interpretazione troppo ferrea della prospettiva e a una volontà di costruire delle figure nello spazio troppo stabili. In questo caso abbiamo delle figure che hanno pose contrapposte tendenzialmente instabili. Guardate la vergine seduta sulle ginocchia della madre che ha una postura veramente assolutamente instabile così come il bambino che gioca con l'agnello che rappresenta San Giovannino, San Giovanni ma che è un agnello vero e Cristo di chi è un orecchio quindi ci sta giocando come un bambino giocherebbe davvero con un cucciolo. Una serie di indicazioni di un naturalismo impressionante seppure accompagnate da una simbologia assolutamente ferrea. Tutto questo ovviamente con uno sfondo che mostra quello che si sarebbe dovuto realizzare vedete che anche la tela del Louvre è una tela evidentemente non finita lo stacco tra il primo piano e il secondo piano è così forte perché è una tela non finita ma che mostra comunque questa prospettiva aerea questa volontà di gradare verso l'orizzonte non solo attraverso le dimensioni ma anche e soprattutto attraverso la scelta del colore. Ecco questa è una delle opere si diceva che Leonardo porta con sé dopo varie vicissitudini che rimarranno in Francia l'opera in assoluto più famosa di Leonardo da Vinci e che appunto è esposta al Louvre perché Leonardo stesso la portò con sé e quindi è una proprietà diciamo così francese è la cosiddetta gioconda il ritratto di Mona Lisa del quale ci occuperemo in una lezione apposita nella prossima lezione perché non si tratta solo di un dipinto di qualità eccelsa che presenta dei problemi di interpretazione interessanti ma si tratta di una icona probabilmente l'immagine e il ritratto più noto della storia dell'arte di tutti i tempi e che quindi diventerà appunto un'icona, una figura iconica dell'arte moderna e ne parleremo nella prossima lezione.